Siamo qui riuniti per l'inizio dell'Assemblea, io sono il nuovo Presidente del Comitato Regionale Valle d'Aosta, ANPAS, devo solo ringraziare l'ANPAS per aver accettato la nostra disponibilità anche per il meeting e soprattutto vorrei ringraziare il Presidente Pregliasco che ci ha creduto, vorrei dire che sono 14 anni che ci stiamo lavorando, quindi dopo 14 anni finalmente siamo arrivati alla conclusione, lo statuto è stato approvato recentemente, quindi siamo comitato regionale ANPAS e abbiamo mantenuto, è quello che a me premeva anche, la nostra storia di federazione dei volontari di soccorso, grazie all'ANPAS e sicuramente avremo più forza per le varie attività che dovremo affrontare nel prossimo futuro.